Cari sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore guidati dai primi quattro versetti del Salmo 24, nei quali scopriamo o riscopriamo che non possediamo nulla, che tutto quello che ci circonda, comprese le nostre vite, appartiene a Dio. Tutto ciò che abbiamo è dunque un dono. Leggiamo dal Salmo 24. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Fratelli e sorelle preghiamo insieme. Signore fa che riusciamo come il salmista a renderci conto che tutto, anche la nostra vita, appartiene a Te. Fa che in questo culto ci sia l'occasione per ricordarci della Tua vicinanza e gioirne. Amen. Amore di un gruppo santo. Amore di un gruppo santo. Il grito solito farà in l'opresso e in certa libertà. Il grito solito farà in l'opresso e in certa libertà. Il grito solito farà in l'opresso e in certa libertà. Il grito solito farà in l'opresso e in certa libertà. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di riflettere sugli ultimi versetti del Vangelo di Matteo al capitolo 28, i versetti dal 16 al 20. Quando agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo «Ogni potere mi hai dato in cielo e sulla terra». «Andate dunque e fatemi ai discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Il Signore benedica la lettura della Sua parola. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, Gesù era di nuovo lì con i Suoi discepoli, era di nuovo lì con loro, li aveva convocati in un posto che loro conoscevano bene, la Galilea. In fondo questo è davvero un bel quadretto, sembra davvero tutto tornato come prima, prima della sconfitta, prima della delusione. Tutto come prima, anche il dubbio e la fede sono rimaste le stesse. Come sempre c'è chi si affida e chi nonostante tutto dubita. Oggi come allora. Se ascoltiamo bene il testo però, scopriamo che ad un certo punto vira. È come se Gesù si spostasse dal centro della storia. O meglio, sembra cedere il passo a chi dopo di lui dovrà trasmettere il suo messaggio alle generazioni. Lo sforzo di testimoniare che ha chiesto ai discepoli però non è solitario. La testimonianza non è una fatica da portare a termine da soli. Gesù in questo testo sembra voler tranquillizzare i discepoli, dicendo loro che con la sua compagnia, perché a lui è stato dato ogni potere sulla terra ed in cielo, nulla è impossibile. Dunque, se nulla è impossibile, andate, cari discepoli, andate, care discepole, dice loro Gesù, per il mondo a fare miracoli. E se anche noi siamo discepoli e discepoli, questo invito è rivolto anche a noi, a me, a te. Immagino il vostro sconcerto, che è stato anche il mio. Fare miracoli? E come si fa a fare un miracolo? A quanto mi risulta, nessun fratello o sorella di chiesa che ho conosciuto ha mai tramutato, anche se sarebbe stato molto comodo, l'acqua in vino o abbia mai guarito qualcuno. Ma allora la fiducia che Gesù mostra nei suoi discepoli è falsa e Gesù inganna noi e i suoi discepoli. Se così fosse, l'evangelista sembra un venditore di prodotti miracolosi su internet. Se diventi cristiano, sembra dirci, potrai fare miracoli. Salvo poi cadere alla prova dei fatti, scoprire che era tutta una farsa quando ormai è troppo tardi. Il racconto evangelico visto da questa prospettiva sembra proprio il tentativo di vendere un prodotto di scarsa qualità facendo pubblicità ingannevole, che si svela solo all'apertura del pacco. Fuori di metafora, ci accorgiamo solo quando la promessa che Gesù ci fa non si realizza nella nostra vita, che il Vangelo è tutta una finzione. Ma se stai ascoltando questo culto, significa che non la pensi esattamente così e che forse al Vangelo, alla buona notizia che Gesù Cristo ci ha portato, dai ancora una possibilità. Perché pensi ancora che le promesse di Dio contenute nella scrittura non siano da buttare. E allora la promessa che ci viene fatta di poter fare miracoli non può essere liquidata così su due piedi, come falsità, ma deve essere presa sul serio e deve interrogarci. Cosa vuol dire fare un miracolo? È vero che non vuol dire tramutare l'acqua in vino, almeno per noi. È vero che non vuol dire ridare la vista ai ciechi, almeno per noi. È vero che nella nostra vita non riusciamo a far camminare nessun paralitico. Ma non vuol dire che non faremo mai nessun miracolo. Quante volte siamo riusciti e riuscite a far ridere una persona triste? Quante volte abbiamo intuito che qualcuno aveva bisogno di qualcosa e abbiamo, senza chiedere nulla in cambio, teso una mano? Questi sono i nostri piccoli miracoli. Quando ci capita di andare controcorrente, quando riusciamo a parlare di luce anche nel buio pesto, quelli sono i miracoli, non tanto piccoli, che siamo chiamati e chiamate come discepoli e discepole a realizzare. Ce lo dice anche il racconto. Anche i discepoli dubitano che il dubbio non è solo legittimo, ma anche normale. Ma allora come possiamo fare miracoli senza l'aiuto di Dio e la compagnia di Gesù? È proprio questo il senso del racconto. Siamo chiamati e invitate a testimoniare, ma non saremo soli e sole. È Dio che starà con noi, con Gesù e lo Spirito Santo. Ci accompagneranno senza sosta per renderci capaci di fare i miracoli che ci sono stati promessi. Ma fare i miracoli non è l'unica cosa che ci è chiesta. Il Gesù che Matteo ci descrive ci chiede anche di battezzare tutte le nazioni, cioè le persone che le abitano, e di insegnare tutto quanto Gesù ci ha insegnato. E anche questo, se ci pensiamo bene, per la nostra sensibilità è un po' strano. Significa che dobbiamo battezzare a forza tutti e quelle e quelle che incontriamo per strada? Significa che dobbiamo piegare tutti gli esseri umani alle nostre regole, un po' come facevano i missionari del nuovo mondo? Ovviamente no. Insegnare significa avere il coraggio di camminare al fianco degli esseri umani che incontriamo per strada, raccontando loro che nonostante le apparenze nefaste, le cose possono cambiare davvero. Insegnare significa dire a chi incontriamo sul nostro cammino che il nostro sguardo, grazie a Dio, nel vero senso della parola, può cambiare prospettiva. Insegnare significa dire a chi incrocia la nostra vita che quando incrociamo lo sguardo di Dio, per quanto ci sembra incredibile, scopriamo di non essere più soli e sole, scopriamo che la morte non ha l'ultima parola, scopriamo che i nostri peccati sono perdonati. Se insegnare come ci chiede Gesù in questo passo significa dire tutto questo, ma vi pare poco, e non sponsorizzare una certa tradizione dottrinale che c'entra il battesimo. Per rispondere a questa domanda non possiamo fare a meno di chiederci quale sia il significato del battesimo. Battezzare qualcuno, almeno nell'accezione di questo brano, significa, secondo me, dare fiducia ai nostri fratelli e sorelle che vogliono diventare testimoni a loro volta delle meraviglie che Dio ha fatto nelle loro vite. Se stanno così le cose, l'invito che ci fa Gesù in questo testo non è poi così astruso come ci pareva all'inizio, ai discepoli. Chi crede è chiesto di rendere il mondo un po' migliore di com'è. Ecco il senso dei miracoli, di insegnare a tutti e tutte che questo si può fare e come farlo, e di permettere a chi lo vuole di unirsi nella cerchia dei discepoli per diventare a loro volta testimoni. Ma lo abbiamo detto, essere battezzati e battezzate significa camminare, camminare insieme e non si esaurisce con una cerimonia, con un rito. La testimonianza come il battesimo non si esaurisce con l'appartenenza ad una comunità o ad una confessione religiosa. È un cammino lungo quanto la nostra vita ed è anche un cammino che non possiamo fare da soli e da sole. Per come siamo noi, spesso stanchi e sfiduciate, abbiamo bisogno di compagnia, abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi, che non tutto è perduto. Ecco il senso della promessa di Gesù. Io sono con voi. Ma c'è un particolare al quale dobbiamo prestare attenzione. Quando testimoniamo la nostra esperienza della nostra vita, non testimoniamo la nostra bravura, i nostri consigli, le nostre ricette per vivere meglio. Battezziamo e testimoniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dobbiamo ricordarcelo. Siamo noi ad essere testimoni, ma non siamo noi ad essere la testimonianza. Siamo chiamati e chiamati a fare miracoli, ma non siamo il miracolo. Siamo chiamati ad insegnare, ma non siamo l'insegnamento. Con questa speranza andiamo nel mondo a testimoniare la grazia di Dio. Amen. Quattro amico in Cristo abbiamo Guattri, fuggio nel dolor In preghiera a Lui compriamo Tutto quel che curva il cuore Con la pace che perdiamo ogni lungo e l'idolo, perché tutto non confiamo in preghiera al Salvatore. Se c'è la tentazione del peccato, il signo al cuore, di temer non verano, perché tutto il Salvatore. Un amico si bella c'è, dove mai poter trovare, ci conflendeci la pace, ogni beso e buon contà. Quando stanni e travagliati nella prova ci trovià, il Signor non ci ha lasciati, tutto, tutto a Lui portià. Già mandorino altri amici, ma Gesù ci accoglierà, e con cui saremmi felici, che il niposo ci trarà. O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte siano davvero la tua presenza in mezzo a noi, che ci hai promesso. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana. Buona domenica e buona settimana.